La bandiera della regione Abruzzo sventola 8.848 metri sulla vetta della montagna più alta e più famosa al mondo, l'Everest di Melaia. Un messaggio universale di fratellanza, di riconoscenza e di cooperazione internazionale che dura da dieci anni tra l'associazione Explora Nunat International e la Dreamers Destination e che apre le frontiere ad una nuova visione del territorio abruzzese nel mondo. Tutto questo grazie al rapporto di amicizia tra la presidente dell'associazione Davide Peluzzi e il più grande alpinista vivente Furba Tensin Sherpa. Nato alle falde dell'Everest e ancora detentore di un record, essere salito e sceso in pochi giorni per ben tre volte sulla vetta del mondo. Gli abbiamo chiesto che cosa significa per lui salire fino a 8.848 metri. Just one question, which sensation, emotion to reach the summit of Everest for you? Which? Emotion. Aha. It's when I was young. Quando ero bambino è una cosa che mi faceva battere il cuore. L'Everest per me è come un padre. La prima volta avevo 17 anni e da allora non posso fare a meno di tornare su quando posso. Furba Tensin Sherpa ha anche ricevuto per questa sua impresa una lettera d'encomio della regione Abruzzo scritta di proprio pugno dalla presidente Marco Marsiglio. E intanto, a breve, nell'ottica del rapporto di amicizia e collaborazione, il grande dono di Furba sarà ben ricambiato con una missione del team Explora The Skyways to Sagamart Everest con partenza il 19 ottobre e che prevede la costruzione del rifugio più alto dell'Himalaya a 5.800 metri in sinergia tra Austria, Italia e Nepal e la realizzazione della via ferrata che metterà in sicurezza il secondo tratto per raggiungere il bivacco oggetto di interesse non solo alpinistico umanitario ma soprattutto di ricerca scientifica. Questa costruzione, se andrà tutto a buon fine, se sarà super positiva, avrà dei grandi risvolti per quello che riguarda in primis come rifugio, come riparo ma soprattutto per la ricerca scientifica nel campo della fisiologia umana e nel campo della meteorologia, della comprensione delle dinamiche climatiche perché siamo proprio all'interno del flusso dei jet stream, delle grandi correnti che avvolgono la Terra, quindi per comprendere meglio la vita sulla Terra.